Le scogliere del promontorio di Ponta Doppiedade rappresentano la visione più coinvolgente tra le attrazioni naturali che ho vissuto in Algarve. Si tratta di una scenografica linea costiera calcarea, con pilastri marini, arcate rocciose, faraglioni e grotte nascoste scavate dal vento e dalla potenza del mare. La presenza del forte vento, il fondo polveroso e il precipizio che si affaccia su entrambi i lati del sentiero mi inducono ad avanzare con cautela. La presenza del forte vento La presenza del forte vento, il fondo polveroso e il precipice, La presenza del forte vento, il fondo polveroso e il precipice, La presenza del forte vento, il fondo polveroso e il Joshua Il forte vento, il fondo polveroso e il fondo polveroso e il fondo polveroso e il fondo polveroso e il forte vento��ico. Grazie a tutti.